ciao a tutti la prima cosa che volevo dirvi è di sabato 2 giugno ci vediamo in piazza della bocca della verità a roma e faremo questa grande manifestazione il mio voto conta è un giorno importante perché è la festa della repubblica italiana e quel giorno noi affermiamo un principio che è il principio su cui si basa la nostra democrazia che quando si va a votare si sceglie si scelgono le politiche pubbliche si scelgono gli aiuti che si vogliono dare alle famiglie le imprese a chi lavora chi non lavora si applica la costituzione si attua la costituzione soprattutto per quanto riguarda la sanità pubblica per quanto riguarda il diritto alla salute per tutto quello che riguarda il principio di eguaglianza formale sostanziale la festa della nostra repubblica il 2 giugno sarà la giornata in cui chiederemo una cosa molto semplice che l'italia deve avere o un governo politico o delle nuove elezioni il governo tecnico non è contemplato dai cittadini quando vanno a votare nessuno mette nel conto un governo tecnico nessuno mette nel conto un governo non votato da nessuno tutti quanti votano una forza politica e spero che sperano che vada al governo oppure sanno come lo sapevamo noi quando ci siamo candidati alle elezioni politiche che se non sono autonomi i propri eletti devono trovare delle intese in parlamento sono stati 80 giorni molto difficili che però si concludono con un epilogo che non mi piace l'idea che arrivi in parlamento un governo non votato da nessuno e non mi è piaciuto neanche il fatto che avessimo portato un governo al quirinale lì pronto con una lista di ministri e non ce l'hanno fatto partire ora dobbiamo scegliere dobbiamo scegliere se andare al voto o insistere ancora per un governo politico io spero che se si deve andare al voto si vada al voto il prima possibile e si deve andare al voto il prima possibile perché i cittadini si devono esprimere sono cambiate le forze in campo sono cambiate anche le sensibilità dei cittadini ieri sera ho incontrato una persona nella pizzeria a napoli che mi ha detto non vi ho votato ma da questa volta vi voto perché tutto quello che sta succedendo mi ha aperto gli occhi ce ne sono tante di persone sto incontrando che mi stanno dicendo questo come ce ne sono tante che mi dicono provate a fare un governo e secondo me se questa diciottesima legislatura deve avere un un ricordo deve lasciare un ricordo negli italiani lo deve la diciottesima legislatura deve lasciarlo per un governo politico non un governo tecnico e se ci dobbiamo ritrovare un governo tecnico come quello cottarelli che non prenderà neanche i voti in parlamento anche perché non li ha nel paese e ce lo dobbiamo ritrovare sol perché nella squadra dei ministri c'è un ministro che non è accettabile dal quirinale e allora dobbiamo fare un ragionamento secondo me il ragionamento è semplice noi abbiamo una squadra di ministri già pronta abbiamo un candidato alla presidenza del consiglio dei ministri che è giuseppe conte il professor conte bene troviamo una persona della stessa caratura levatura e libertà dell'eccellente professor savona e il professor savona rimane nella squadra di governo in un'altra posizione di ministro questa può essere una proposta che io faccio pubblicamente perché lo dovete sapere prima voi cittadini e poi tutti gli altri e vediamo se riusciamo a risolverla non una persona che sia amico delle agenzie di rating non una persona che sia amico delle banche o che sia amico di qualche altra nazione nel senso negativo cioè che amico di una nazione fa il gioco delle altre nazioni europee quando abbiamo progettato questo governo del cambiamento quando abbiamo messo in piedi il contratto di governo sapevamo che la grande battaglia era ottenere margini di bilancio in europa si è sbagliato a dire che volevamo uscire dall'euro noi come governo col contratto di governo movimento 5 stelle lega non abbiamo mai ideato una ipotesi di uscita dall'euro mai e infatti sono due tre giorni che passo il tempo a dire alla gente che non è vero che volevamo uscire dall'euro ma questa è una notizia che non abbiamo messo in mezzo noi è stata una notizia è stata utilizzata a giustificazione del governo respinto io non credo che questo sia il momento delle accuse io credo che questo sia il momento di trovare una soluzione allora per il movimento ci sono due soluzioni o si va subito a votare senza cincischiare con governi tecnici senza perder tempo o illudersi che i governi siano neutrali perché neutrali non sono mai perché prendono delle scelte politiche oppure facciamo partire questo governo del cambiamento e facciamolo partire non arretrando ma aggiungendo un'altra persona alla squadra oltre al professor savona aggiungiamo un'altra persona che va a ricoprire per stessa caratura e levatura il ruolo di ministro dell'economia questa è una proposta che mi sento di fare che viene da tanti cittadini anche perché su questo siamo sempre stati coerenti il tema non era savona in sé ma una persona con quelle caratteristiche con quelle capacità che potesse andare in europa a contrattare il programma di bilancio dei prossimi sette anni il fiscal compact alcuni trattati e farlo in maniera efficace lo possiamo fare ancora non dipende da noi il movimento 5 stelle ci sta dipende da l'altra forza politica che fa parte di questo di questo contratto di governo se ci stiamo il governo chiederemo noi come movimento di far richiamare conte al quidinale e di fargli dare l'incarico per formare quel governo la cui lista di ministri era anche pronta il cui rapporto di in parlamento di fiducia tra le due forze politiche c'era è una grande occasione oppure è una grande occasione andare al voto io vi aspetto tutti in piazza sabato 2 giugno per il mio voto conta perché lì festeggeremo la festa della repubblica vediamo se lo festeggeremo pretendendo il voto o lo festeggeremo perché abbiamo formato staremo formando il governo del cambiamento lo so che è dura e lo so che non se ne può più perché sono oltre 80 giorni che subite come cittadini questi continui queste continue accelerazioni e decelerazioni ma la situazione non è semplice abbiamo tanti nemici che non ci vogliono far partire ma quando leggo in quel contratto che c'è la possibilità di realizzare l'acqua pubblica il reddito di cittadinanza l'abolizione del legge fornero fermare il business dell'immigrazione quando penso al fatto che possiamo finalmente allontanare i corrotti dalle istituzioni per sempre col daspo ai corrotti o di mandare in galera veramente gli evasori fiscali grandi evasori o di potenziare le carceri per aumentare il numero di persone che debbano scontare una pena dopo essere stati arrestati allora io li continuo a sperare ma non a sperare in un ripiego ma nell'unico governo politico che può partire un governo del cambiamento su cui abbiamo lavorato per 15 giorni e per cui non solo ringrazio chi del movimento 5 stelle ci ha lavorato ma anche chi della lega ci ha lavorato a quel contratto perché è stato un ottimo lavoro ed è l'argine e gli argini entro i cui entro i quali far camminare il governo io vi ringrazio sempre grazie per tutto quello che mi scrivete per gli incoraggiamenti che ci mandate grazie per essere stati ieri in piazza napoli una piazza stupenda questo weekend sarò sia in sardegna venerdì che in sicilia domenica e aspettiamo le prossime evoluzioni adesso vado a incontrare i nostri parlamentari facciamo un'assemblea di gruppo congiunta come abbiamo fatto in questo periodo e ogni volta che vado in questa assemblea sembra sempre che ci sia una novità su questa formazione del governo spero molto presto di tornare nell'assemblea di gruppo a dire o si va il voto o che abbiamo fatto il governo del cambiamento perché questa situazione incertezza non sta causando problemi solo nei cittadini ma anche nei mercati perché i mercati saranno anche un po spaventati dal movimento 5 stelle dalla lega insieme ma quello che più preoccupa è l'incertezza politica e questa incertezza politica la possiamo eliminare fermare possiamo affermare un po di certezza politica solo con un governo politico ciao a tutti